Salve signora Garber Salve Come sta Emma? Sta bene, grazie Come mai mi chiedi sempre di lei? Oh, in realtà mio padre vorrebbe che la sposassi Sul serio? Sul serio Ed è vero Charles? Ebrea Direi proprio di sì Allora no Perché? Non augurerei mai a una ragazza ebrea l'infinita disgrazia Di avere a che fare con questo inutile sciocco Che vuole fare il pagliaccio e ai muscoli di un fantasma Eh, in gran parte è vero Emma è l'unica ragazza ebrea al mondo che non vuole sposarsi Non spregare il tuo tempo Grazie Non credo abbia funzionato No Io credo di sì Ora pensa che tu sia uno sciocco No, no Proiezione psicologica, secondo il dottor Freud Ma hai sentito nominare? Lo so Eh Incolpare gli altri può portare a un effetto a cascata In cui individui di una gerarchia incolpano i loro diretti subordinati E questo si propaga a cascata fino ai ranghi più bassi E questo che cosa significa? Che se il macellaio ti crede uno stupido Probabilmente sei un genio Già Ah! Di al dottor Freud di curarti quello Che se il macellaio ti crede uno stupido Grazie a tutti